Riassegnate le deleghe assessorili al comune di Isernia. Dopo un'attesa durata un mese e mezzo, il sindaco Giacomo D'Apollonio ha finalmente provveduto a ridisegnare l'esecutivo di Palazzo San Francesco. I sette assessori in carica, fino all'azzeramento dello scorso 25 di marzo, tutti riconfermati, conservano le deleghe principali con qualche incarico in meno. Un fatto questo inevitabile in ragione dell'ingresso in giunta di Linda Dall'Olio. Scorrendo l'elenco di deleghe e delegati emerge che i più, tra virgolette, penalizzati sono i tre Ioriani, Domenico Chiacchiari, Emanuela Guglielmi e Eugenio Chianischi. Dunque, Chiacchiari perde i parcheggi e i servizi cimiteriali che vanno rispettivamente a Matticoli e Dall'Olio. Guglielmi invece lascia il SUAP, sempre per il neoassessore in quota Isernia Migliore. Chianischi cede il turismo, guadagnando però l'incarico per i bandi europei. In realtà si tratta di modifiche che erano nell'aria, soprattutto quella relativa al trasferimento della delega per i parcheggi, sottratta a Chiacchiari a seguito della clamorosa vicenda delle strisce blu delle scorse settimane. Nello specifico, il nuovo assetto di metà mandato della Giunta, citiamo solo le deleghe più pesanti, prevede per Cesare Pietrangelo, lavori pubblici, infrastrutture e urbanistica, edilizia pubblica e privata, ad Antonella Matticoli, sport, impianti sportivi e, come detto, parcheggi. Per Pietro Paolo di Perna, turismo e marketing territoriale, politiche per il lavoro, servizi sociali. A Domenico Chiacchiari, ambiente, raccolta e smaltimento rifiuti, verde e parchi urbani. A pannaggio di Emanuela Guglielmi, affari legali e contenziosi, contratti, valorizzazione del patrimonio. A Eugenio Chianischi, cultura, programmazione dell'attività dell'auditorium e i predi di bandi europei. Risorse umane, commercio, attività produttive e innovazione, le deleghe invece per la New Entry dall'Olio. Il sindaco da Polonio conserva gli incarichi alla sicurezza e i progetti strategici per la città. Ora, fatta, anzi rifatta la squadra, bisognerà valutare se l'azione amministrativa a Palazzo San Francesco procederà con un passo nuovo e soprattutto più spedito.